Gli anni fa non so, ma in un senso, non so che c'è. E' un po' di fama, ma non so che l'abbiamo. Ma se non si fa, e non si fa, e non si fa. non è finita la cura e la guinea la mamma o brinara e ma fichieri ossa la di camara ma mamma di taggembi in a cammi cuti la fa fa l'abbè già colo mangara pilara parce que après le 5 septembre j'ai été le premier ici de di la mamma di de résilier les contrats miniers parce qu'elle soit tassion monofa rendement mona pour la guinée c'était pour des individus parce que l'intérêt est là juste pour les servir les individus on a résilié nous reprendre les négociations on a fait des défis de la guinée mais cela n'a pas été locaux moment que l'on sait ça bilan de fallant tamber non la forme maintenant forme la guinée qui m'a iraille trois ans trois ans de gestion publique oui mais là dans la flèche et il a sa fin fait l'andang fila guinée mois minimum la ressource d'un bori consulment mais mon frère interna ma d'arfeba kayyete kabori amour à mien ma felanandone finna statistica non sombra il raya cosci la gina cabina ma qu'elle feste sempre ma hantona den balle en rance diga nombare non saffi mini nadine rex what madenna non questo è un di due credibilità con tutto il governo a preso delle instituzioni per ai aiutare non la guinia è endettata fino al cuore il faut dei techniciens che savent gérer le cose correctamente il ne s'agit pas di riunire le militare del resto non non non, 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 non 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 dire che ci si c'è il reso il che ci si chiede, non ho aspetti che ci si chiede il ruo il quando è lì di stagione il ruoso, una buona, la guinia ma è una buona, nulla quanto non non si ho aspetti, non miora è un po' di ralle,谁 che fa? guarder maintenant a daté a partir d'aujourd'hui conakry le 10 octobre l'an 2024 le scandale o la malediction de la portite en guiné je vais prendre mon temps et lire tout doucement pour que mes auditeurs puissent comprendre pendant la période des présidents amadisekou touré et l'ancien comté de points la guinée produisait 20 millions de tonnes par an de bauxite dont cbg 15 millions de tonnes obk l'actuel sbk 3,5 millions de tonnes fria 1,6 millions de tonnes ça c'était le temps de secou touré et l'ancien conté numéro 2 pendant la période d'alpha kondé il y en a où m'a sauvé n'a rien photo oui même un arrêt social même pour mieux comprendre et noter ou à savoir c'est la au temps d'alpha la production a augmenté de 80 millions de tonnes par an au temps d'alpha la production de l'apoxyte a augmenté de 80 millions de tonnes par an pour atteindre 100 millions depuis mille l'an 2018 le prix moyen de l'apoxyte de guinée de haut teneur est de 70 dollars par tonne au port de conakry ou bofa tapez sur google vous allez voir le prix de bauxite de guinée 3 le scandale c'est quoi la valeur des exportations est donc de point 100 millions multiplié par 70 est égal 7 milliards de dollars de dollars le problème de ce pays nous revient de droit nous tient au coeur il faut qu'on se coûte c'est le pays c'est la guinée la guinée n'a pas le mal de ce montant de la valeur créée en guinée le budget de l'état enregistre moins de 500 millions de dollars soit 7,1% donc les entreprises étrangères en poche près de 96% il y a deux problèmes c'est pourquoi je parle je parle je parle « il a un exc별se je parle d'arrêter tout il ne nous a pas écoutés il nous a dit il y a des gens et tout c'est ce que je parle L'entreprise gagne su l'argento giusto per l'extraccion a ciel overt e il transporte Il n'y a aucune transformation, aucune usine a Guinée Cette repartition trop favorable à notre pays est la clé pour comprendre la richesse en mines et la pauvreté dans la réalité Quatre dégâts environnementaux Poussière en basse côte Pollution des cours d'eau Maladie des hommes Des animaux Faune et flore Effets sur le climat J'étais en communication directe avec un ami Afria C'est-à-dire qu'il y a des animaux d'eau Il y a des cancers Il y a des cancers Il y a des dégâts environnementaux C'est-à-dire que Il y a des cancers 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 Il n'y a des cancers la force, avere 3 anni o cosa, nel Pouvoir Guinien. Ma non ci sono i dissi, ma non ci sono i raggiunti, ma perché? Perché io ho fatto un'ONG, che mi aiuto per tutti. Un'ONG aiuto per tutti. Perché il nostro corso, io ho fatto un'efficienza in place, io ho fatto un'adamma e l'idea, perché io ho ricevo un po' di cose, di informazioni, ci sono attraverso il paio a Mammu di 7 chilometri che ci sono stati e ci sono stati e ci sono stati e ci sono stati e ci sono stati sono stati e ci sono stati e ci sono stati ora c'è al livello di Mammu ora guarda in tutte le regione quindi ci sono stati e ci sono stati e ci sono stati e ci sono stati e cittadino quindi c'è uno insentore un dolore c'è due paesi cinque responsabilità l'incompetenza o la corruzione Petit 1 Quel futuro nous riserve le cas Simandou Point d'interrogation Maintenant, je vais essayer de joindre mon avocat de porter ses analyses je pense je sais qu'il me regarde Mamadi Il en a un éthique c'est semoufant Il faut organiser les élections et débarrasser de tout Abri Ngouli ses semoufant Quelle est la ligne Inga Kriibara Falebego Parce que j'ai des frères qui t'aiment beaucoup Oui, oui Je ne vais pas Manionner les noms ici Mais Ez Il a fait Et C'est Il a fait Les élections Il a bloqué Il a été libéré Il a été libéré Il a été libéré Il a été ballé Il a été libéré Il a été dégâts Il a été libéré Il a été libéré Non c'è il problema. Perché 17 milioni di abitanti sono stati con la force. Non c'è la force tecnica, non c'è il problema. Si forcerà il problema. Si il problema, non c'è il problema. Non c'è il problema. Il faut vedere quanto volte ho ho parlato di questo paio. Non c'è nulla cosa che mi permette di parlare di la Guiné. Non c'è nulla. 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 E finalmente. Regretta. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Si c'è nulla, non c'è nulla. Non c'est pas la peine, come è il caso di Chèk Kamara. Ci sono due sièclesi, non c'est lì, 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 non c'est lì. Non c'est lì, non c'est lì, non c'est lì, non c'est lì, non c'est lì. Etre président, il y a des critères qui devono essere riusciti. Non c'est lì, non c'est lì, non c'est lì, non c'est lì, non c'est lì. C'est très grave, il faut arrêter, voilà. Non c'est lì. Non, il faut la cro Schweiz di che s Comms��� takie, non c'est lì d' terra latino. Si nosματα dell'exploitazione applicata, che non Somewhere orandomiale, non c'est lì saomi. T'asso che siamo qua, questa. È quindi bello Uää, oggi gli ingegneri lo so come si poterano un bilatino. Nel punto delle mine, sono lì. E le condizioni che si stanno iniziando, non ci sono le bambini, ma il bambino è un pollo che si stanno iniziando. Perché? Ma mi dice che ci sono un pollo che si stanno iniziando, il bambino è un pollo che si utilizza le prefecture, le distrito, ma la mettiamo iniziando per il bambino. sì i raggiungi i fanno un sito da assamplasso a noi fare dei trip i raggiungi un militer c'è come sa, un soldat c'è come sa i raggiungi 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 i raggiungico i raggiungi i raggiungi statика statica i raggiungi per non è uno non è un progetto per il polizia se è un progetto utile non si non si è un progetto utile ma sai? non è la mia parte perché disse il polizia non si è un progetto è il polizietto perché non si è un progetto utile Non, 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 non. Non, 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 non la gestione fai mona mauva gestione borri qui corruzione borri qui istama minde nulle part e attend attend alora la tanketta naiki dinanier nara saminima araba c'est d a prado prado nanti rinna farma pour amaya domani rira gore rima s'il m'a bethine n'am embri d'énanam avanti co a ira guiné violer ok nansera guiné violer il mode l'inanier ira guiné à violer parce que les jeunes militaires au pouvoir come ti non di falla di be apre e tambi anna carnage na nia ma e luna e aludi parce que ora malonetete na nia cali migri milio fi mamad non di falla na kaibamu na regretta matina de ketala c'è defo tip i e ne dimbe i ma gawu na uto kubira uto nyagira na condition brimulegle uto nanku ina dorani gai kike nani furendeghira na uto yatku imakolo i ma framfarana ineto ina barame de zinitil kamsala oh no donc moumoulou makre moumouna fala eh papa fofala nana fala me ben la guiné radiation c'est pas un problème de famille madame je dis bien c'est pas un problème de famille il y en a roulant nabafu y tat mamadimura faima il y en a roulant mamadira faima no i mu foncionna makre ragnon a quello che incontra avere un gruppo di persone della promulgela la servizio di la vision a unaちょっと ma gestioneTER, l'unico non c'è un contraria là basso perché se si è un economista è un bien commun non c'è un problema che ci non c'è non c'è un problema non c'è un problema non c'è un problema ma ma il giorno a venuto ma 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 fama comprande wii et d'arretto le falene nera qui a collo kelle colomboskina kamamade akolo tamio mai etat guinè mora yermanaki wii etat mora yermanaki il faut des hommes d'état kha wo etat rena lo le comportement ke le messer ee 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 sada dit cek il fez ee isi a gine ommuskama nul par sotsman gena wii aske kha dosse nan yi labe ilan tape go goulmabe o state of ohaio enara minibye gimanen e che abbiamo il sozimento e ora e l'irradiation pubblica che mi ha detto ma se sono mio figli che non mi ha credibilità mi ha detto non 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 è la alco per sortire propres e heureux si il faut ma non è una gente enfant il faut des hommes d'Etat la Guinée n'a pas d'Etat aujourd'hui, c'est ça la vérité c'est pourquoi non, 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 non non, non, non non, non non, non, non non, 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 non non, 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 non Exception che voglia di fare Non che capta bene Non che capta bene Ma cosa ha sbagliato? Perché quando dorme Ci sono un po' che presto Non che non ci sono Che riesco da me soffrire Infine, non Lo'è l'unica è costa Che fare 1 dollari ila yun mayarabi nankui so su mange nankui ubenaki très bien papa faufona canta toala a faleguini abe ajerut la raje ila fa yirade nanara ok anna gina la nasa ma na fari parce que moubara fait narani ari la guiné du gouvernement de transition il a so sédé n'est pas la fin d'ara finir ariroi na programe montanma moula mer a détruit c'est ou parce que si brin en fin de commerce qui ma en fin de entrepreneuria qui ma model brin si brin nana kui mais pourquoi kha fin de cadre nana pour kha sou sète anglite parce que fin dinde nana moukada fey nana soin di erike l lé kolo era kolo gounu nangara khalmara moumere gil falama be me la gine kontra da nana mi begbe nantagi et pour kha sou sète anglite ma nan moufan lamana kha dang mena damma di foy gha sousse nankolo ikilig dene re wallah mme kha mme kha mme kha mme kha mme kha Dopo che si metti quello che gli gonfano amici, non mi sono mai problema. Non significa che per il sogno come l'occhio di sì non ha a bisogno. Ma io non l'occhio inocche di farlo, non lo so, io non lo so ma il fafera barba con litala marano centana banca in accemo sgd omo insetto wassa o bossa singa colos indena anato mai barandema di risodi colena inibon se giri a passkey itamo ama ibo setta matiare anu sarainan ea bama nei nanato un privema monodidine wene Perché noi abbiamo fatto una madre che mi ha detto. Perché ci sono tutti tutti e ho detto. Eh, io non ho detto , allora mi ha detto che non ho detto, ma del ciotto è solo, il è un mese di questo. Y'a, non. Non. È così. Mi ha detto bene. Si è così con. C'è unico. wono so... Mi ha detto. Mi ho detto bene. Noi, ma. vi faccio di presto, per quanto riguarda l'exportazione delle misure in Guinea, dei 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 materiali e animali e ambientali, avete qualche cosa a dire per quanto riguarda questo? Non, ma, ecco, io ringrazio d'abord i miei editori, perché, non, io non ho tutto subito, perché non ho trovato, ma, ecco, ma, ecco, 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 ec Napprov'e che non c'alle pare perspectives. Autremo eseranco osee. Se non l' wizurè, ne poter dist interestingly Fans on l' haber venuto. Ma parte di rappresentare.. cef93 C'è una piccola r candy Par Anya di propaganda fava una cosa ochoa. E ci sono ragazzi.. L'인을isca demonstrated... Nei mai l' interview! Perché anche il secondo affian ق.. mamma sempre e ci sono simple. e insomma non 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 è alla frappola frappola grazie oggi la Côte d'Ivoire e le Sénégalais e i giovani anche con la con la Corea del Sud la Corea del Sud i paesi sono cooperati con la Corea del Sud e l'avance la Corea del Nord la dictature la dictature noire non ciò che ci ha rapporto la Corea del Nord aujourd'hui c'è la 7e puissance economica ma ma la cooperazione qu'est-ce que ça vous a donné la Corea del Sud le SIGA il y a un senere 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 c'est pas possible si l'onore coopère avec Israël on se fasse Palestina Non, 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 non. Non, 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 non non Ma non c'està dire È un secret Il fallait mettere una autorità di regolazione È un WASP porque C'è il posto in contratamento È un concetto È un concetto del dollaro del dollaro confesso a una autorità di regolazione dell'apoxidità abbiamo fatto tutto questo e scuovmo di l'indicritten che l'interessore m'a escluso lui che ha fatto questo M. Schalup ha lavorato su un progetto Il è venuto a Bramaya Il è venuto a Bramaya Il dice Ma io sono un operatore economico I cittare nel Côte d'Ivoire Ma è una contribuzione Non si non ho tornato Non si non ho tornato E tutti i amanti Non si è venuto Il prendo un posto 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. s'il pense que c'est lui qui peut être il va se casser les dents et après c'est un proverbe africain c'est un pays qui est en faillite et dans ça a fait quelque chose avec son CLT ils ont changé la loi sur le statut de la banque centrale vous avez révisé les articles pour pouvoir endetter, faire endetter et vous allez tous être jugés en dîner écrivez très bien moi je vous dis clairement les autres parce que ce que vous avez fait là on se parle de rama et aujourd'hui on a mis une copine avec la corruption ils sont en train de faire autre chose encore parce qu'avec les autres commissaires nous ne vous auront pas on ne savait pas il ne savait pas il est différent vous avez fait une protection il ne savait pas il ne savait pas il ne savait pas ils ne savait pas il n'y a pas un rassi Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. in caso di devorgement si può irriguer le plaine ma la cirelle sono e se non o o e toque o ma la cirelle ma la cirelle o fattu o ti ma c'è l'ingénieur che può fare ce n'est pas l'ingénieur c'è l'ingénieur che può fare tu non sei l'ingénieur tu n'es même pas ton BTS e tu n'as rien si non c'è la cirelle ou no o no c'est pas la cirelle ma cirelle de 400 Where no Successful Il'm a valido come disaient l'enfant e è non, non, non non, 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 ... con una funzione pubblica che cosa rapporte a la Guinée che questa funzione pubblica si non c'è la GABG ma si le Suisse che cosa rapporte a la Guinée e mi all'imamo e mi all'imamo e tuori e comunque non c'è un'imamma il fa il suo rito le ministro del Mil dopo qu'on farà tutto è d'une même region e nel caso di region per tutti i maliens d'origine la Guinée ce n'est pas le mali non c'è un'imamma ma non c'è un'imamma ma non c'è un'imamma ma c'è tutti i maliensi qui sono maliensi di quelli che sono malinati voilà non c'è tutti i conattini che sono guidati non c'è tutti i camminati che sono guidati di quelli che sono malinati guardate il ministro del Ministro del Ministro della Dfense del Marino Allo non era qui a raffa qui parce que transition allo nafra macchina e moi carlina nonara la regra mon amma ma monara falabe et il fari non abadi qui Sì, non si è un progetto. Allora, allora, tutto ciò... Non ci sono un po' di un bambino, però non ci sono un po' di un bambino. Si, non ci sono un po' di un bambino. Ci sono un po' di un bambino. amici oi eeeh mi rinomani la mini donc il tomara barri il musia maddé fallari tiff api nati il reso non allah mara le recettino mara ba onana timetamba in a quick Allò? 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 Allò ma fan america ma fan on va chino e poi passi né nomadano non d'abord abilé dit c'è un pollo mané compagnie n'ai été nella società naitre n'a prescabri francese la france la Francia è una force la Francia è una potenza Allo, Oussmane? Mi amontana? Mi amore, mi amore, mi amore. Merci, faire. Eh, mi amore, come un mato e da un gara. Oui. Eh, non ne le mi amore. Non. Non ne le mi amore. Non, non le mi amore. Non, non le mi amore. Non, non le mi amore. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non Ousmane, mamma, non mi ha fatto la Biblioteca per il migliore. Allo? Allo? Allo, Ndala? Allo? 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 Allo, non? Allo, following you. All through all the followed by Mимости. It's a news about the way to markets. All this. non un dollar mario sui madame te mamura fa sui on avrei a boxe tonti kering a 70 dollars je metta mwai nara nma boxe tonti kering a 70 dollars boxe setmane si vien a la poesia si vien e caraccia m'u canari caracca si vien a la poesia tonti kering est moins cher le prix est moins cher c'est 1 154 euros une tonne c'est la baronne c'est 5500 euros la tonne on a la guinée la baronne 5500 euros la tonne voici comparé ma une fois et un solde c'est 39 000 euros la tonne un choix il y en a moins cher c'est 3 300 euros la tonne mangui 1.980 euro la tonne ça c'est le prix du moins cher 10.500 euro la tonne ça c'est la buonière quale ti demande il y a la Mayoka il y a la Mayoka la Faria c'est 1.000 euro la tonne 1.000 euro la tonne il y a il y a un pape 12 a pris 20 anni de 1.500 euro la tonne à 3370 euro la tonne 1.500 euro la tonne le médaille 5 parce qu'on a fait boxyde exproitable le médaille 5 oui donc bon au revoir le médaille 5 est -il la arrière m Non, 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 non. Perché non ci si sa capizione, non ci si sa capizione ma 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 Che Non, 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 non. Inizia 40 milioni di dollari per le attacchi di Bediè e Radunima. Inizia 30 milioni di dollari. Inizia 40 milioni di dollari. Inizia 40 milioni di dollari. Inizia 30 milioni di dollari. Un diragenda è ricordato. Inizia 30 milioni di dollari. Pessicili di Bediè étaient 90 milioni di dollari. Inizia 40 milioni di dollari. Inizia 30 milioni di dollari e Rじゃ parts di werden. Inizia 30 milioni di dollariтор. Un present di people are the Japanese developer. E saranno 30 milioni di dollari. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. come si quindi quando si è stato io sono un po' di più io sono un po' di più io sono un po' di più che mi ha detto che mi ha detto grazie 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 ok Ok, non mi metto. C'è Bangola? Allo? Allo? Non, 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 non. Non. Non, non. C'est la sereicha . Pour finir, qu'est ce Burkina Afre sterabue, il ne peut pas y faire, tout ceci combines. Il ne veut pas le faire pour les villes. Le antimetti du CopASS évolué Non, 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 non. con Santino, e poi dopo era parte di Bacchia della Repubblica. Perché alla thế che hanno bella parte della Repubblica, non èva parte di Bacchia, è di donchi, è di paya.... Per tutte le scelte che non si fa, non è vero, è unvero abbaccio Non, 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 non. Sori Nala Amuyalangi Ragandang Impossible Una finare Inyagura Bavira Bayetera Moussegba sanggapera A obi rapetti Nandaki A to se a obi khébudi A to se a obi khébudi Maison Centrale Afuragito Amuyalangi Ma e bakuri Sari Naki Nara Rindasamaki C'est-à-dire Si ce n'est pas On a extrané On a bagné On a raté On a sué Banna C'est-à-dire Moussama On a un puto C'est-à-dire Bavira 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 Travail Jutis Et sondalité Sondalité Jutis 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 Hein Mouripi Ma Mange Twa man A Bavira 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. e poi qualcuno che è già alla retraite ommo direi non ma ecco tutto il mondo entro con questi bali verbi ota falama ota l'anaggine ma tifia ota l'anaggine non è troppo a quel gente parla su le résello social ben l'anaggine ma non è che informe le persone che non vendete bene l'immagine di vostro paio perché voi parla di cose che non comprenaz ma ma il non è il non è non sono anche tali sono come mi sono tanti sono un uomo il fatto tipo come questo con i quali panafricanista non so che parlano di panafricanista che i poел kagamira il panafricanista il panafricanista il Trypidino è un paio di realismo lo che dice che se n'est RESINGUE una panafricanista era una bandita era di topista o che c'era era delle vere ah sì perché perché, un kourma ha avuto un kourma ha lasciato le baracchino, un kourma ha fatto un po' il mio senso, un po' il mio senso, un po' il mio senso, e il mio senso? Ho sentito persone che dicono che una generazione è una fizione, è che quando è una cittura non non Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. per andare a fare la festa di Milo tu vas fare l'endettere Régi e con un commerciante non mi ha detto 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 a tutti i nostri amici della Haute-Guinée della Guinea forestiera non mi ha detto non mi ha detto non mi ha detto non mi ha detto ma dice non mi ha detto non mi ha detto ma Gianluca alla buona Non, 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 non Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. i barato la guinea i foa rete hey dunia mou nomma wokini kini miskine ma ma kobri nawe woni saranda raba de de soi disang fonctionner a frete angine en provenance du bamako we we hey mali la guinea mara la guinea kena lamira la guinea bénéficier oui vous êtes là à enrichir les gens les étrangers chounou ebomaf sain broukinabe a deux tounes combien de millions en guinea y en a beaucoup oua managam moura mouanfala 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 kanyé basquot tiye iowa wanfala Hans mouanfala 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 malqui nôane el deu 好ivi colo en mauva ngouanfala à qui mouanfala veu mai mouanfala 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 ma Non. Non è l'affancio. Non è interdito di offrire qualcosa per te. Non non ci ne riconosciremo a convicciare a te. Non ci sono. Non. Non ci sono. Non ci sono. Perché non ci saranno la cosa. Non ci sono. non ne riesce a ero c'è il peso ma la gestione ma la metà il faut imparso non 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 Fara fanè. Sassonandena. Muguti mammo ammire tanga destruction naso rango. Sassonfatigui. Parce que inamato lo group da Marasuma, de Karim Bangura, de Karim Fofana, de Baide Gay, de Hadja Mafuri, de Daoudi Tondo, etc. Ne ragion yinambasco lo wiki momu iska dikolo. Muguti fei nata naso rango. Sassab, mamma di, croyez-moi. Sassab, mamma di, croyez-moi. Sassab, mamma di, croyez-moi. Sassab, mamma di, croyez-moi. Chers camarades, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu as intérêt d'arrêter tes conneries là au sein de la communauté soucule. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter tes réunions là, Yandi. On est fatigués de vous. Vous faites quoi? Vous avez fait quoi pour cette communauté? Fonnytec. Fonnytec.